La disordinata exit strategy dal superbonus rischia di gettare nuovamente il settore delle costruzioni in una crisi ancora più grave, è la preoccupazione di CNA. L'esecutivo continua a produrre norme restrittive nei confronti del settore delle costruzioni, afferma il direttore di CNA Piemonte Nord Marco Pasquino, generando caos e incertezza per le imprese e i committenti, oltre che per i cittadini. La nuova stretta... Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.